Tribunale di Paola, procedura esecutiva numero 119 del 2012, lotto unico. Casa a blocco, costituito da un unico piano terra, con accesso indipendente ed area di pertinenza esclusiva. Sito in località Cannazzini, Scalea. Prezzo base, 36.036 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 agosto 2015 alle ore 11.30. Luogo della vendita, presso lo studio del professionista delegato in Paola. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Emanuele del Duca, telefono 09-82-58-71-83. Tribunale di Paola, procedura esecutiva numero 132 del 2012, lotto unico. Appartamento al piano secondo della superficie di metri quadri 37 circa. Trattasi di immobile uso abitativo costituito da tre vani e mezzo compreso accessori, due stanze da letto, bagno e soggiorno pranzo con annesso angolo cottura, balcone a servizio delle camere da letto di metri quadri 13 circa e balcone lato sud di metri quadri 3,60 circa. Sito in località Cotura, via San Francesco di Paola numero 50, scalea. Prezzo base, 33.600 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 8 settembre 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 22 settembre 2015. Tribunale di Paola, procedura esecutiva numero 139 del 2011, lotto unico. Magazzino, composto da un locale negozio con voci di servizio e annesso vano intercapedine di pertinenza. Sito in località Timpone, via Nazionale, San Nicola Arcella. Prezzo base, 46.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 settembre 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 21 settembre 2015 alle ore 18. Luogo della vendita, presso lo studio del delegato dottor Sergio Maria Sorace in Paola. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Sergio Sorace, telefono, 09, 82, 58, 54, 10. Tribunale di Paola, procedura esecutiva numero 165 del 1990, lotto unico. Unità abitativa posta al secondo piano di un edificio a 7 livelli, con accesso dal vano scala collettivo dotato di ascensore, contraddistinta col numero di interno 7, avente superficie utile di metri quadri 65 circa, composta di vano ingresso, cucina, soggiorno, corridoio a L, ripostiglio, cameretta, bagno, stanza da letto e due terrazzi, di complessivi metri quadri 15 circa. Sito in via Giardini, San Lucido. Prezzo base, 33.750 euro. Quota, piena proprietà. Vendita con incanto. 14 settembre 2015 alle ore 10. Luogo della vendita, presso lo studio del professionista delegato avvocato. Rosa Garritano in Paola per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Paola Procedura esecutiva numero 177 del 2012, lotto unico. Appartamento facente parte di un fabbricato adibito esclusivamente a civile abitazione. Sito in contrada Piano Grande, Parco Veronica, Scalea. Prezzo base, 26.250 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 9 settembre 2015 alle ore 15 e 30. Vendita con incanto. 16 settembre 2015 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, studio in Belvedere Marittimo. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Ciria Corriente, telefono 09 85 828 51. Tribunale di Paola, procedura esecutiva numero 182 del 2012, lotto unico. Immobile destinato a civile abitazione, 6,5 vani, costituita da ingresso soggiorno, cucina con piccolo ripostiglio, 3 camere da letto, 2 bagni, corridoio e balcone terrazzo. Sito incontra da San Pietro, Falconaro albanese. Prezzo base, 54.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 7 settembre 2015 alle ore 12. Vendita con incanto. 9 settembre 2015 alle ore 12. Luogo della vendita, presso lo studio del professionista delegato avvocato. Salvatore Dione Salvi in Cosenza, Corso Luigi Fera 166. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Paola, procedura esecutiva numero 183 del 2010, lotto unico. Appartamento facente parte di complesso condominiale, composto da ampio ingresso soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto e un bagno, superficie lorda metri quadri 47,70 e calpestabile di 37,30 metri quadri. Sito in località Renile, Via dei Catalani, Scalea. Prezzo base, 37.243 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 7 settembre 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 9 settembre 2015 alle ore 18. Luogo della vendita, avanti al professionista delegato avvocato. Salvatore Perricone, presso lo studio in Paola per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Paola, procedura esecutiva numero 19 del 2013, lotto 1. Appartamento per civile e abitazione, posto al piano terra del complesso residenziale. Sito in località Torre, Via Piemonte 23, Guardia Piemontese. Prezzo base, 32.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 settembre 2015 alle ore 10. Luogo della vendita, presso lo studio del delegato dottoressa Anna Maria De Luca in Belvedere Marittimo. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottoressa Anna Maria De Luca, telefono 3, 4, 4, 10 71 725. Tribunale di Paola, procedura esecutiva numero 19 del 2013, lotto 2. Appartamento per civile e abitazione, posto al piano terra del complesso residenziale. Sito in località Torre, Via Piemonte 23, Guardia Piemontese. Prezzo base, 34.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 settembre 2015 alle ore 10. Luogo della vendita, presso lo studio del delegato dottoressa Anna Maria De Luca in Belvedere Marittimo. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottoressa Anna Maria De Luca, telefono 3, 4, 4, 10 71 725. Tribunale di Paola, procedura esecutiva numero 73 del 2009, lotto unico. Appartamento per civile e abitazione, sito al piano primo di un fabbricato su due livelli, con accesso da scala esterna, costituito da, soggiorno, cucina, tre camere da letto, bagno, ripostiglio e due terrazzi. Sito in località Marina, Via Scalo Ferroviario, Fiume Freddo Bruzio. Prezzo base, 62 mila 76 euro e 56 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 settembre 2015 alle ore 9 e 30. Vendita con incanto. 2 ottobre 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, presso lo studio CESA SRL, in Paola via dei Salici numero 4. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottoressa Maria De Francesco, telefono 3, 4, 7, 31 56 476. Tribunale di Paola, procedura esecutiva numero 96 del 2013, lotto unico. Appartamento. L'immobile è costituito da 4,5 evani. Sito in via Po SNC, Scalea. Prezzo base, 49 mila 290 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 8 settembre 2015 alle ore 11. Vendita con incanto. 6 ottobre 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, presso lo studio del professionista delegato in Scalea. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Fabio De Paola, telefono 09 85 27 03 55. Vendita con incantorato,не mare ilnoc De Paola. Grazie a tutti